Le procedure di sicurezza nei reparti di terapia intensiva stressati dall'emergenza Covid-19 seguono protocolli precisi per ridurre al minimo i rischi di contagio. Silvana Di Florio, infermiera che coordina il reparto di terapia intensiva al Covid Center del Policlinico di Tor Vergata di Roma. Una procedura più che protocollo che tutti possono seguire, quindi che seguiamo noi, che seguiamo di sopra e che seguono tutti i reparti che ne hanno bisogno. Questo per la vestizione in area critica, quindi in presenza di aerosol che è la parte più pericolosa per questo tipo di virus perché è proprio il momento critico del passaggio del virus. Ma richiede tempi molto lunghi. Il personale è fondamentale, cioè non si deve ammalare. Abbiamo stimato che in un turno di 7 ore, quasi 30-45 minuti vengono utilizzati per la vestizione. Per quanto riguarda invece il lavaggio delle mani e la decontaminazione delle mani si può parlare anche di 60-75 minuti nell'arco di un intero turno. Grazie. 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 Grazie.